buongiorno a tutti ragazzi bentornati sulla galacticraft allora ragazzuoli qua è molto lento molto 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 lento allora ho deciso di fare una cosa oggi no è un bagliato potenziamo questi macchinari qua come si potenziano questi macchinari qua semplicemente costruendone altri con questi quindi se vedete qua andiamo su meccanismo e vediamo che ci sono diversi tipi di macchinari no noi abbiamo l'enrichment chamber che è questo qua che è il pulverize diciamo e abbiamo l'energize smelter possiamo fare lo step successivo quindi il basic smelting factory ok che è lo stesso praticamente è una fornace però più potente quindi dobbiamo creare questi e poi c'è anche la possibilità di fare questo qua che è l'advance smelting factory che si fa però con questi questi qua si fanno con questi più questi quindi possiamo in realtà già farli e io li farei quindi mi metto farmo di intanto dovrei avere un po in giro ancora questi materiali qua vediamo un po no qua non ho più niente ok qua in giro non ho più nulla però qua forse sì vediamo sì ne ho 17 perfetto e invece dei circuiti non ne ho neanche uno quindi circuiti non mi ricordo proprio come si facevano ah ok osmio e redstone perfetto allora facciamo osmio e osmio solo 13 ne ho e redstone qua ma dio ok quindi così ah ne ho 5 interessante e vabbè e redstone intanto gli buttiamo dentro un po' di di redstone tipo 13 e gli buttiamo dentro l'osmio così ci facciamo i nostri bei circuiti perché forse anche di questo no mi sa che metallurgico infuser è così e non si può potenziare vediamo infuser sì 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 è solo così non si può potenziare perfetto niente allora facciamo meccanism abbiamo detto ah vediamo questo qua invece come si faceva l'elite o no l'elite già si fa con questi che si fa con l'amante ok no 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 qui andiamo sul pesante quindi per il momento facciamo l'advanced smelting factory e basta che si fa abbiamo detto quindi con questo con questo ok più il basic ok quindi il basic già lo possiamo fare quindi andiamo qua ci prendiamo allora anzitutto facciamo così vediamo se ce lo fa fare lo stesso allora basic così ok perfetto e ce lo fa fare e invece questo qua dobbiamo fare quello rosso che possiamo già farlo advanced smelting con due di questi ah ah figo però questo non mi interessa vabbè sì volendo potrei anche farlo servono più materiali però per facendolo così è advanced smelting no allora facciamo questo così 1 e 2 perfetto mi serve dell'osmio che però ah minchia ok vediamo un po' se viene fuori bam parabam advanced smelting factory e bam perfetto vediamo se funziona veramente oddio allora mettiamo l'entrata da sinistra input sta andando ok se tipo io gli metto un'altra cosa vediamo 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 dust noi cosa abbiamo qua abbiamo questa abbiamo questa e questa e se io faccio qua c'è tutto insieme guardate che figata oddio però c'è un sacco di impostazioni che io non conosco ah devo dargli l'uscita a destra sotto la corrente l'extra par l'extra cos'è che è l'extra ok auto eject minchia qua c'è tutto assieme che figata ah transporter configuration ecco scopo me lo devo studiare bene come funziona facendo tutto assieme direi che è tanta roba perché cuoce molto più velocemente in teoria va bene allora iniziamo a fare anche l'enrichment chamber più potente quindi abbiamo detto meccanismo allora basic enrichment factory dovrebbe essere questo qua si esatto e così e così ok e poi l'advanced enrichment quindi dobbiamo fare due di questi ancora uno e due e dove sei qua e così bam proviamo a piazzarlo giù vediamo un po come funziona sto coso quindi entrata anche uguale gli diamo l'entrata dietro in input in output laterale sotto la corrente l'extra l'extra non lo so ah però vedi vedi come funziona va giù tutto madonna che figata che figata no devo dargli l'auto eject però perché non glielo ho dato quindi così auto eject in teoria butta fuori si non l'output 4 l'output 4 gli diamo la corrente qua gli diamo niente e l'input chiudiamo ok funziona molto più veloce in teoria non so di preciso che cosa ci sia dentro eccolo qua ah c'è dentro sta roba qua va bene ok direi che ci siamo ragazzi autosort cosa vuol dire ah che divide in automatico forse si questo invece non so che cosa sia vediamo appena finisce qua finisce l'osmio non finisce l'osmio si si è buono e butta dentro l'alluminio perfetto perché l'alluminio era l'ultima cosa che aveva dentro giusto si e qua sta cuocendo questi ok sta andando non ancora veloci come intendo io però sta andando perché per fare invece l'elite che è il massimo che si può fare serve vediamo questi qua abbiamo detto che si fanno con la polvere di diamante nel metallurgico infuser e la polvere di diamante la si fa quanti diamanti abbiamo? 44 la polvere di diamante si io butto del diamante qua dentro oh mi fa questi che vanno bene quindi va bene facciamoli questo lo buttiamo dentro lasciamoglielo fare anche se quasi quasi si dai ne facciamo un po' così possiamo fare tranquillamente questi e siamo a posto e siamo a posto per questa puntata siamo a posto quindi dai io li lascio craftare e arrivo ok ci siamo quasi qua quasi finito ne ho fatti un bel po' perché ci serviranno qui sta andando ottimo bene 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 interessante mi sa che tra un po' però devo staccarlo perché anzi mi conviene fare così guarda chiudiamo l'entrata e mettiamo non così non entra più nulla questi li tiriamo via questi perché non escono? perché sono pieni oh non c'è corrente è finita la corrente cazzo cazzo non basta la corrente ok 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 abbiamo un problema allora va bene aspetta intanto questi qua li ha fatti vediamo se intanto la corrente sta aumentando no minchia non basta proprio qua sta recuperando e qua no perché consuma troppo va bene mi sa che devo mettermi prima di fare le triplicazioni materiali devo mettermi a fare questa farò una piattaforma vabbè adesso vado a dormire così dormendo recupero un po' di di corrente forse c'è il sole in teoria dovrebbe funzionare il pannello non basta lo stesso consumo veramente un botto questo ma tanto tanto che adesso sta recuperando perché è arrivato il sole perfetto allora va bene facciamo questi intanto mettiamo su questi allora mettiamo questi qua e 5 6 16 ne devo fare quindi riempiamolo tutto 8 e 16 quindi abbiamo dentro 10 praticamente non so come funziona 1 dovrebbe essere rapporto 1 a 1 in teoria ne facciamo un botto perché devo fare la potenza massima poi off camera crafto pensavo di fare tipo una piattaforma qua in zona qua dove metto dentro tutti i pannelli solari da una parte e tutte le ventole dall'altra tutte collegate a un cavo magari con un cavo facciamo i cavi quelli un po' più avanzati nella prossima puntata che trasportano più corrente e questi qua non trasportano tantissimo si dai va bene va bene intanto voglio finire questi quindi forse 8 basta no? vediamo no 2 4 6 8 per ogni macchinario quindi iniziamo a prendere questi 8 qua prendiamo questo qui spegniamo tutto oh ho detto che devi spegnere tutto ok ahhh ok così poi bam intanto questi diamanti li mettiamo giù e possiamo fare il felting quindi facciamo questi 1 no aspetta 2 3 e 4 e ok poi poi così 4 e va bene poi prendiamo 6 ok ok 7 e 8 ok quindi in questo modo bam elite smelting e facciamo subito l'altro che si fa dove sei elite rich perfetto perfetto allora quindi mettiamo così vediamo un po' com'è boh uguale sarà forse più veloce vediamo diamogli l'entrata da dietro cazzo cambia non è cambiato nulla cos'è cambiato? niente ah posso fargli gli upgrade questo non l'avevo mica vista gli upgrade della meccanism vediamo un po' come sono questi upgrade item speed upgrade con l'osmium dust che ho che ho che ho quindi proviamo a fare un paio di upgrade vediamo un po' come funzica proviamo uno vediamo upgrade dove si mette ok aumentato la velocità in pratica si sembrerebbe anche più veloce effettivamente va bene quindi poi farò anche gli upgrade perfetto quindi diamo l'entrata a sinistra no l'input a sinistra da sopra no l'extra non mi interessa la corrente e l'uscita a destra perché non va? perché qua non gli ho messo l'uscita a destra bam adesso va no non va comunque perché io ho messo l'auto eject adesso va anche qua gli faremo l'upgrade auto eject e sta funzionando perfetto 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 ok ragazzi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare quindi adesso crafterò gli upgrade che abbiamo visto che si fanno con un kaiser quindi si possono aumentare preparo la piattaforma preparo tutto e nella prossima puntata aumenteremo la corrente e aumenteremo anche triplicheremo i materiali andremo a triplicare i materiali quindi andremo a fare il sistema di triplicazione ragazzi tutto nella prossima puntata ok qua vabbè lasciamolo così per il momento che va bene quindi direi che per oggi è tutto grazie a tutti ciao